Ciao a tutti ragazzi! Bentornati con Banana su Banana Food & Game. Oggi continuiamo a Charted 4. Allora ragazzi continuiamo, avevamo, se vi ricordate avevamo finito l'enigma, quello esplosivo, dove dobbiamo evitare dei quadrati di legno su cui camminare per evitare esplosioni e quindi proseguiamo. Ok ragazzi, sembra che abbiamo finito, proseguiamo il cammino in questa specie di grotta. E se ne siamo accorti, guarda che roba! Già, cerchiamo di muoverci con cautela. Esattamente, anche se credo che la storia delle mummie ragazzi sia finita eh. Vediamo un po', porta! Serva la chiave eh! Ce l'avevo però! Ce l'avevo una chiave eh! L'hai presa l'altra volta! Guardate che bello quel fucile che ce l'avevo! Eh, se è una trappola morimmo eh! Che cosa fa? Eh! No, la scelta ce l'avevi, se te ne stavi a casa! Sì? Ok! Oddio, 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 oddio! Uff! Mazzia e botta di culo! Brava, brava! Se ce l'avevo io ero morto! Ma io ero morto all'inizio del gioco al primo zumpo! Ok! Apposto! Ok! Non è che avresti un coltello, vero? No! Ma quel tizio ha una spada! Ecco! Aiutami a farlo dondolare! Apposto! Ok! Quindi dobbiamo andare a spadare quello! Prima che scoppia tutto, regà! Vedete le mummie stanno a scoppiare una per volta! Oh, cazzo! Se dobbiamo sbrigà! Andiamo! Dai, dai, cazzo! Non me l'ho presa! Vai, 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 vai! Ok! Mamma mia, stavamo a morire! Oddio! Oddio, sono distratto e non dovevo! Sbrigamo, se sbrigamo, se sbrigamo, se non sbaglio il botto! Ok! Via, 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 via che scoppia tutto! Via, via! Oddio, qui mosse io che controllo! Via, 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 via! Via, via, via! Via, via, scavarca, scavarca! Mamma mia, Everly, era malato, Everly, comunque, eh! Porco due, regà! Grazie, capitano Everly! Ahci tu, quando stai mo'. Come ai vecchi tempi, eh! Non risponde lei, eh! Oh! Elena! 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 Oh! Il mio eroe! Dimmi che non l'hai fatto! Ma ha fatto... Ma ha fatto pian corpo! Non è divertente! Ma che tu sei scio, ma sei, eh! È molto peggio! Oddio, mi hai fatto venire un cazzo di infarto! Oh! Fammi sentire! Così? Sembra in forma! Mamma mia! C'era rimasto male pure io, regà! Porco due! Cosa io abbia combinato in passato! Sì, proprio tutto! No, no, neanche nessuno! Guarda, il fango ovunque! Questa è tutta scema, eh! Cioè, ma ha fatto pian corpo! Però so' contento, è vero molto! Concetto di romanticismo! Sì, qualcuno me l'aveva già fatto notare! Sì! È pure buona, eh! Airena, ragazzi! Vabbè, però dai! Un momento... Po... 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 Il gruppo è lo stesso! растano! No. No! Mo... Mo... Po... 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 Mo... ma allora andiamo c'è un galeone davvero è vero aspettate ok aggrappamose qua sopra c'è un galeone ecco qua pure ragazzi quindi il tesoro sta sul galeone ragazzi guardate che roba ma che è un cimitero galleggiante ma che è questo casino sbrigamose sbrigamose regà ok vai e ora saltiamo di qua ok ora andiamo cosa aggrappamo andiamo del quale qua stiamo avvicinando che cazzo ce l'aveva fatto fa queste cose allora ok ragazzi quando ti metti il fucile ci stanno i nemici che te sparano troppo lontano ragazzi troppo lontano ragazzi per questi però siamo abbastanza vicino allora ragazzi sono parte volte che muoio allora io ho deciso di fare una di utilizzare una tattica diversa mi sbrigo a scendere e me vado a fratta qua ok almeno stiamo un po' più riparati pure se sono sempre tanti stiamo dietro le rocce che questi almeno non si possono rompere sparandolo la non ho fatto un cazzo vieni qua Elena vieni bravo bravo vieni vieni venite qua venite qua venite qua ok perfetto ok la ci sono delle armi non guardo mai se devo ricaricare o meno io ho finito i colpi quindi prendo qui c'è un bel fucile vedete dietro la roccia attenzione la si può salire aspettate eh aspettate che prima devo c'era questo qua prima ok quanti ne mancano io e qua io e qua dietro 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 ok porca vacca ma che sei scemo questi sono un miardo ok venite 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 ok non gli ho fatto un cazzo ho le granate ragazzi ma non mi ricordo come si tirano le granate via 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 sono riuscito a ammazzare quello senza ok ho preso i colpi sanno questi due grossi regà non morano con niente tanto se siamo levati qui lo dai palle ok regà che c'è qua ah niente c'è la barocca bella la barocca regà solo che so morì si ne fosse un po' riparato un attimo regà oh vaffanculo mamma mia regà mamma mia che fatica che cos'è questo oddio no no chiede questo che è successo si si arriva un attimo no no dammi questo coso fiatelo vai andammo con questo ci metteremo di più andammo avanti con questo ma io voglio usare questo una volta eh me ci hanno sparato talmente tante volte contro no no cazzo faccio il giro guarda non prega niente poi cazzo mai taglio sto pezzo ragazzi che pezzo che dove cammino con questo ma guarda che bello era troppo che volevo piar si si calma un attimo c'è lo sto cristo sul genimento che come segui sem non sta la sem allora eccoli perfetto portaci tua bello da coatto proprio questo regà solo che questi sparano per bombe portaci vostra e volta che si cade per terra questo cade hai rotto il cazzo tu lassù va bene ok bello bello parola parola per per amore a per 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 non ma sai lì cazzo lo a a tipo rambo a voglio finire così merda ok a posto basta ok abbiamo preso il condor ci abbiamo pochissime munizioni ragazzi abbiamo saputo questa graffica e il lg china lane a posto scendiamo qua sotto qui che ci avevo vabbè non si fa manna bene quello che ci avevo qui che ragazzi si può uscire da qua si può uscire da qua ok dai dai usciamo ragazzi andiamo vai daie daie natan ok no attenti ci fanno quello grosso regà ancora è vivo a posto ora non è più vivo questo me lo tengo ragazzi me lo tengo perchè ovviamente lancia granate allora eccolo si dai dai andiamo alla sema tanto la sema muore eh sappiamo sappiamo ah shikondo stabile ok dove cazzo state mutaci vostra guarda se morono ecco ecco non è come sema arrivo vero piacere vedervi sì che ne dite di andarcene da questa spiaggia direi innamosene domani ecco 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 non mi piace sta musichita Dov'hai Teman? Dov'hai? Te capisco! Che cazzo stai facendo? Corri da una parte all'altra come uno scemo! Lanci tua! Mentre ne riparo Nathan? Orco due stanno con lancia, quello con lancia granate la fa secco, regà! Hai rotto il cazzo dopo il fucile a pompa! Allora mi ha detto di prendere il suo RBG, ma io là come cazzo ci arrivo secondo lui? Ok ragazzi, sono tanti, io ho poche armi, poche munizioni, ok vediamo un po' qua, questo è il fucile a pompa, c'è niente che ci potrebbe essere più inutile adesso del fucile a pompa, però magari Sam ci ha detto di andare a prendere l'RBG di quello, proviamo a vedere se ci riusciamo, andiamo, prego! Faccio io! Ecco qui l'RBG ragazzi, abbiamo tre colpi di RPG, portaci, cilua! E' un attimo, non me lo evo! E' un attimo, non me lo evo! Mamma mia regà, mamma mia che scena adrenalinica! Cazzo stai, bello con l'RBG da un metro e mezzo! Dove stanno? Eccoli! Voi avete dovuto li coglioni, vi pagano voi, lasciate perdere no? Lasciateci perdere no? Ma che be' frega, andatevene! Trovatevi nel lavoro un po' più tranquillo no? Vaffanculo, non mi muore mai questo! Ok! Vaffanculo, non mi muore mai questo! Ok! che se ne dovevo andare qua, RPG, a posto, posso regà, so troppi, via 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 via! Regà, che muore, uno muore! Uno muore, preveramose! Uno, due, due, due muore! Assoluto, spero che muore sempre regà, riesco a breve! Oddio, oddio, dentro l'acqua! Ok, andiamo qua, andiamo qua! Oddio, ripiaciato, 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 no? Ok, l'acqua sale, però l'acqua sale, l'acqua sale! Ok, andiamo qua! Vai, 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 vai! Ok, 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 vai, vai, veloce! Oddio, subito così! Ok, facci vostra! Ok, che miseria! Ah, perfetto! Ok! Ok, raga, devo portare! Aspettate Ah, qua sei tu, sei Qui sei tu Lì c'è pure il camion Sono una marea Sono una marea queste merde Ok ragazzi, mi sono rimasti due colpi Ok, bisogna cercare l'RPG ragazzi Andiamo a colpire questo Un tanto, qui ci stanno altri colpi di questo L'RPG, oddio forse è qua ragazzi No Dove cazzo sta l'RPG Via 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 Eccolo Eccolo qua ragazzi C'era questo l'RPG Stavolta quel cazzo Ok, mu è distrutto Porca puttana Ok ragazzi, io direi dopo questa bella esplosione col camion Ci fermiamo qui per questo video E ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie per la visione!